Boris Johnson soffrirebbe di deficit di attenzione. A riportarlo il Sunday Times, secondo il quale il Premier non riuscirebbe a restare concentrato per più di qualche minuto sui documenti più importanti e noiosi. Un problema del quale sarebbero stati avvertiti tutti i collaboratori addetti alla redazione dei documenti per il Premier. Massimo due pagine, linguaggio semplice. Sarebbe questo l'ordine partito da Downing Street per tutto l'entourage del Premier, che nonostante la sua laurea non riuscirebbe a concentrarsi come Donald Trump, di cui si dice che abbia lo stesso problema.